Il satellite è uno strumento futuribile perché ha tante possibilità, io penso non solo nel campo dell'autologia, dell'audiologia, dell'autorinologia, ma anche in altri campi della telemedicina. Non ultimo la possibilità di interfacciarsi con altri tipi di specialisti, come può essere la telecardiologia, come può essere la telepneumologia. Pensi a fare una spirometria in satellite, dall'altra parte c'è lo pneumologo che ti legge una spirometria. Satellite, da un punto di vista di rapporto con l'autorino, penso che sia una cosa veramente futuribile, perché pensare che dall'altra parte uno specialista ti legga un esame e in tempi rapidissimi ti risolva un problema, penso che sia veramente il punto cardine di questo sistema. Poi satellite mi piace anche come nome perché è futuribile anche in questo, sarebbe il satellite molto probabilmente la nostra nuova professione.